Allora vogliamo calcolare, considerare il volume, il volume di un prisma. Che cos'è il volume? Il volume indica quanto spazio il nostro solido occupa, cioè non più la superficie con la quale ci siamo cimentati nei problemi che abbiamo fatto finora, che era una superficie quindi centimetri quadrati, metri quadrati, decimetri quadrati, ma il volume, cioè quanto spazio occupa questo prisma e cioè quanta roba ci si può mettere dentro, per esempio. Vediamo di disegnare un prisma, sempre più facile, facciamo quello con la base quadrata. Noi vogliamo capire dentro quanta roba ci possiamo mettere, per capire quanta roba ci possiamo mettere, immaginiamoci che ci versiamo della sabbia. La sabbia, man mano che scende dentro, formerà un primo strato. Poi piano piano se ne formerà un altro, quindi sale un altro strato, poi ancora un altro strato, fino a riempire tutto il contenitore, sarebbe tutto il prisma. Per capire quindi quanta sabbia è entrata, noi consideriamo il primo strato. Il primo strato sono praticamente, immaginiamoci che siano tanti cubetti che si sono formati. Se noi li contiamo, vogliamo sapere quanti cubetti sono, in realtà stiamo considerando i cubetti che formano come tanti quadratini la nostra base, quindi è come se fosse l'area, è precisamente l'area della base. Per sapere quanti strati si formano, contiamo quanti sono i centimetri dell'altezza. Quindi moltiplichiamo la superficie di uno strato solo per il numero degli strati, e così otteniamo quant'è il volume. Praticamente il volume viene fuori da questo semplice calcolo. L'area della base, che sarebbe uno strato, moltiplicato l'altezza, cioè il numero degli strati. Questo è il volume di un prisma. Ovviamente questa formula avrà le sue formule inverse, tipo area di base uguale a volume fratto altezza, e altezza uguale a volume fratto area di base. Qual è l'unità di misura del volume? Non più i centimetri quadrati, che sono quelli della superficie, questi sono centimetri quadrati, ma dato che stiamo contando anche quanti strati ci stanno, e quindi quanti cubetti si sono formati, appunto i cubetti sarebbero i centimetri cubi, oppure metri cubi, oppure decimetri cubi, però cubi, cioè la dimensione, la situazione è una dimensione tridimensionale, un cubetto ha un centimetro per un centimetro per un centimetro, questo qui è un cubetto che se ha il lato di un centimetro, è un centimetro cubo di volume, cioè tutto quello che entra all'interno di questo cubo, misura un centimetro cubo, se ha il lato di un centimetro. In questo caso noi contiamo quanti sono i centimetri del lato, quanti sono i centimetri dell'altro lato, quanti sono i centimetri dell'altezza, e moltiplicandoli fra di loro otteniamo il volume.